Ciao, sono Giuseppe Rino di Teleblog.it e Radiosop.teleblog.it Volevo ricordarvi che Radiosop vi aspetta tutti i giorni, da lunedì al venerdì, solo in podcast, per commentare i commenti dei commenti su Twitter, per quanto riguarda gli ascolti TV del giorno precedente. Mentre Radiosop vi aspetta invece in diretta, ogni martedì e giovedì alle 19, su radiostonata.com. Potete interagire con noi in diretta, tramite la mail diretta, chiocciolaradiostonata.com, oppure potete inviarci un messaggio istantaneo direttamente dal sito radiostonata.com. Ciao!